31 marzo al manacoroscopo ben trovati da mauro san beniamino quest'oggi due compleanni come al solito nel mondo dello spettacolo una brava attrice come isabella ferrari nata il 31 marzo del 1964 e oggi è anche il compleanno di jacopo fo figlio di dario di franca rame nato nel 55 scrittori attore recista fumettista adesso è pronto l'oroscopo come sempre i 12 segni proverbio prima una generazione pianta gli alberi un'altra si prende l'ombra ariete vi arrabbierete moltissimo per un disguido di piccola importanza ma non sarà possibile calmarvi stupirete quindi molto gli altri quando qualcuno per un altrettanto futile motivo farà una scenata e a quel punto diventando maestri di saggezza spiegherete che arrabbiarsi non vale mai la pena toro oggi vi sentirete pieni di fiducia in voi stessi riuscirete a raggiungere gli obiettivi che vi siete posti grazie all'equilibrio di cui disponete dovrete cercare di non compromettere il tutto con l'illusione di essere diventati dei saputelli gemelli l'impegno che vorreste mettere nelle cose che fate potrebbe creare negli altri l'idea di una certa pignoleria che potrebbe non essere molto gradita cercate di essere meno intransigenti e sorridete di più possibili disturbi di origine nervosa cancro gli acquisti che deciderete di fare oggi saranno particolarmente azzeccati grazie allo spiccato senso estetico di cui siete dotati date spazio alla fantasia non lasciatevi invece tentare dal gioco o dal rischio perché non vi riuscirebbe leone evitate scenate nelle quali dichiarate di sentirvi completamente trascurati se il vostro è vero amore come asserite dovreste permettere all'altra persona di fare le sue scelte senza pretendere nulla in cambio anzi magari assecondandola e condividendo con lei tutto quanto vergine riuscirete a muovervi in nuovi campi della vita in maniera molto sicura l'iniziativa di questa giornata non vi mancherà anche se saprete soffermarvi al momento giusto per riflettere la possibilità di un trasferimento anche se non immediato potrebbe però spaventarvi bilancia oggi dovrete usare molta prudenza nell'agire la vostra parola d'ordine per la giornata dovrà essere fiducia sì perché è solo attraverso una maggiore sicurezza nelle vostre possibilità che potrete sentirvi più rilassati non c'è nulla di veramente preoccupante quindi calma scorpione vi sentirete molto disponibili nei confronti di tutto e di tutti la giornata sarà ricca di soddisfazioni sotto ogni profilo sarete particolarmente carichi di energia e di esuberanza e la vostra presenza si noterà ovunque andrete sagittario un pochino di giustizia per l'atteggiamento di alcune persone intorno a voi dovrà essere controllata anche perché non avete motivo di buttare sugli altri la vostra scontentezza siete comunque nel giusto quando pensate che quella persona è invadente capricorno evitate musi lunghi oggi il vostro malumore potrebbe contagiare anche chi sta affrontando la sua giornata in maniera ottimistica è vero che ogni cosa si ripete in modo monotono ma è altrettanto vero che non fate nulla per modificare tutto ciò acquario ci saranno intorno a voi persone che ammireranno la vostra spiccata intraprendenza vi sentirete particolarmente disponibili e distribuirete consigli a destra e a manca non assumete atteggiamenti paternalistici però perché mal si addicono alla vostra personalità pesci cercate di essere meno emotivi evitate di prendere posizioni rigide che comunque poi non sapreste mantenere non deludete chi vede in voi una persona che sa essere sempre corretta ed equilibrata nei giudizi evitate di assumere troppi impegni contemporaneamente grazie a tutti Grazie a tutti.